Sulle accise dei prodotti petroliferi occorre aprire immediatamente un'avvertenza con lo Stato e quanto chiedono i riformatori che stamattina hanno promosso un sit-in davanti al Palazzo della Presidenza della Regione a Cagliari. L'obiettivo è quello di sollecitare un'iniziativa della Giunta regionale nei confronti dello Stato per fare in modo che i 3 miliardi di euro di accise per la lavorazione in Sardegna dei prodotti petroliferi rimangano a disposizione dell'isola, fondi che spetterebbero la Sardegna in base all'articolo 8 dello Statuto Autonomistico. Accise che ora anche alcune regioni a Statuto Ordinario come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si apprestano a pretendere. Sulla materia inoltre si è già espressa la Corte Costituzionale che ha dato ragione alla Sicilia. Una delegazione dei riformatori composta dal coordinatore regionale Pietrino Fois, dal consigliere regionale Michele Cosa e da Matteo Roca, coordinatore giovani del Comitato Insularità, è stata ricevuta dal governatore Francesco Pigliaru. Il 15 gennaio le regioni più ricche d'Italia, la Lombardia, il Veneto ed Emilia Romagna otterranno dal governo nazionale più poteri e più risorse. Noi siamo qui per chiedere al Presidente Pigliaru di imporre al governo nazionale la presenza al tavolo anche della Sardegna perché la Sardegna sconta un handicap naturale che le altre regioni non hanno. Noi non siamo contro l'autonomia delle altre regioni, anzi, tuttavia non dobbiamo dimenticare che la Sardegna deve essere messa al pari delle altre regioni. Non possiamo aspettare che venga riconosciuta costituzionalmente l'insularità perché ci vorrà tempo per cui lo Stato deve riconoscere immediatamente alla Sardegna il diritto ad incassare le accise sui prodotti petroliferi.